Ciao, Violet, sono la mamma. Come va nella tua casa nuova? Alla grande. Adoro stare qui. Che cos'è tutto questo rumore? Sto solo guardando la tv. Ok, bene. Senti, io volevo solo farti sapere che ho appena trovato una bellissima casa in campagna. Tutta arredata, c'è l'idromassaggio. Davvero? Sì, e se tu volessi tornare, avresti la tua camera da letto con il bagno. Poi c'è molto spazio. Potresti invitare tutti i tuoi amici, organizzare delle feste. Ti piace l'idea? Violet? Pronto? Grazie Dio! Grazie Dio! Il frigorifero è immenso. Ci si potrebbe infilare un corpo. Perché dici così? Perché è enorme. Beh, non puoi far entrare un corpo là dentro. Sai, dovresti tagliarlo a pezzi. Per favore, smettila. Mi piace da morire qui. Intendi dire che è bella casa? Sì. Allora devi dire così. Ricordami di giocare a poker con noi. Ehi, Baxter, puoi badare a Rosco mentre noi andiamo in città a fare la spesa? Assolutamente sì. Ti do la mia parola che non mi sballerò. Violet, puoi badare a Rosco mentre noi andiamo in città a fare la spesa? Sì, certo. Sono così felice che tu sia tornata. Lo so. Guardate, questo era attorno alla cuccia del cane. Perché mettere del nastro attorno alla cuccia di un cane? Forse combatteva il crimine come Scooby-Doo. Oh, questo spiega tutto.